buona giornata amici bentornati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì primo settembre 2023 iniziamo un nuovo mese un nuovo mese che però ha un punto di riferimento col mese che lasciamo perché l'estate non è finita e quindi il trend del bel tempo dopo la parentesi dell'ultimo weekend continua e continua magari con una temperatura più sopportabile lo vediamo dopo con le previsioni del tempo ma noi anticipiamo la nostra rassegna stampa con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi eccolo è sant'egidio sant'egidio abate visse nell'ottavo secolo nacque ad atene in grecia ma emigrò ben presto in francia dove si ritirò da eremita alle foci del rodano e visse veramente una vita molto molto parca molto molto diciamo così privata da tutti comfort si cibava da qui di quello che trovava tant'è che forse la misericordia divina impietosita dallo stato in cui si trovava egidio le mani mandò gli mandò una cerbiata appunto dalla quale egidio prese il latte fu nutrito appunto dal latte di una cerbiata ma fu un santo taumaturgo a lui si attribuiscono molti molti miracoli e anche il re dei goti che lo incontrò ne fu veramente ammirato per quanto riguarda la vita e la fede evidenziata da sant'egidio e questo è il santo del giorno ed ora diamo un'occhiata invece alle previsioni del tempo il meteo di oggi ci annuncia che ci sarà bel tempo con sole splendente per l'intera giornata i venti saranno al mattino moderati da ovest sud ovest al pomeriggio moderati da est il mare è poco mosso e le temperature si aggireranno dai 19 gradi del mattino ai 25 delle ore più calde della giornata 25 gradi sono una temperatura assolutamente sopportabile anzi oserei dire gradevole ed ora apriamo il giornale il resto del carlino sulla pagina di fano e vediamo l'articolo di apertura ancora caos al pincio distributori presi e ammazzate è stato non un atto di vandalismo ma doveva essere una un furto un furto per rubare tutto quello che questi contenitori contenevano al loro interno è un punto molto frequentato quello dove si trova il locale dove sono questi contenitori è vicino all'arco d'augusto un luogo nei pressi della fermata di tanti autobus l'ingresso della città quindi un luogo molto frequentato e ieri è stato ieri nelle prime ore della mattinata è stato così visitato tra virgolette da un uomo di colore il quale voleva evidentemente impossessarsi del contenuto di questi di questi contenitori di snack e bibite e ha cominciato a colpire il vetro con delle mazzate con delle sassate veramente forti tanto da impressionare tutte le persone che si trovavano lì in quel momento le quali hanno assistito sono state testimoni di testimoni di quanto accaduto ma l'uomo dopo aver così verificato l'inutilità dei suoi sforzi ha preso la bicicletta e si è allontanato in via arco d'augusto evidentemente la sua immagine è stata impressa dalle videocamere che ci sono al pincio il pincio è un luogo molto molto controllato molto sorvegliato e ora le indagini vengono compiute appunto dalle forze dell'ordine ancora caos al pincio distributori presi ammazzate vediamo qui i vetri infranti una persona travisata ha fatto esplodere i vetri dei contenitori di snack e bibite che si trovavano proprio accanto all'arco di augusto a fondo pagina invece abbiamo una denuncia tra virgolette del movimento 5 stelle il gruppo consigliare del movimento 5 stelle formato da tommaso mazzanti francesco panaroni e giovanni fontana che cosa dice questa volta il movimento reclama la realizzazione di un'isola ecologica al porto una di quelle uno di quei progetti che avrebbe dovuto essere realizzato da diverso tempo dopo che la legge consente appunto di realizzare questi queste isole ecologiche per depositarvi rifiuti che pescatori anche raccolgono in mare prima non era consentito ora invece lo è ma l'amministrazione comunale ancora non ha predisposto questo importante punto di riferimento per questo tipo di servizio non sono previste tra l'altro tariffe aggiuntive e se ci sono difficoltà di carattere realizzativo si può guardare quello che ha fatto pesaro nel suo porto qui vediamo un'immagine e quindi si può riporcorrere quell'iter burocratico senza così trovare tante difficoltà che ha percorso già il comune di pesaro la città dall'addio a Luca sulle note di va a pensiero folla alla basilica ieri di San Paterniano per dare l'addio all'operaio con la passione del canto è stato coinvolto purtroppo in maniera letale in uno schianto in un incidente stradale accaduto a Fosso Seiore l'omaggio degli amici dei cori in cui era stato e sono stati presenti a questa funzione religiosa vediamo qui un interno della basilica di San Paterniano durante i funerali sia i coristi del coro polifonico malatestiano quelli del Mezio Agostini e il lirico del Teatro della Fortuna sono state tutte compagini di cui appunto Luca ha fatto parte Luca Rulli, 59 anni, operaio con la passione per il canto deceduto venerdì scorso in seguito a questo terribile incidente grande la commozione che ha destato questa notizia lasciamo Fano, passiamo a Mondolfo dove c'è una notizia positiva dove emerge una notizia positiva infatti la guardia medica sarà ripristinata a pieno servizio e sappiamo quanto è importante avere il servizio della guardia medica il presidio che ha sede nell'ex ospedale Bartolini avrà il dottore sempre a disposizione tranne che nella notte tra sabato 16 e domenica 17 settembre e dopo diamo un po' i trascorsi ebbene in recente passato c'è stata una copertura molto molto limitata 24% a luglio, 56% ad agosto è gestato già un importante avanzamento in questo mese di settembre sfiorerà il 100% il servizio di guardia medica di Mondolfo su 39 turni complessivi tra quelli diurni del sabato dalle 10 alle 20 e della domenica dalle 8 alle 20 e quelli notturni di tutti i giorni dalle 20 alle 8 successivi quindi tutte le notti saranno coperte il presidio mondolfese avrà il dottore sempre a disposizione tranne appunto che nelle giornate di sabato e domenica così come abbiamo detto una bella festa, una bella festa che valorizza un prodotto locale quella che si festeggia, che si celebra a Serrungarina Serrungarina e la pera angelica sono un connubio veramente che fa un tutt'uno Serrungarina festeggia l'oro degli alberi così viene definito questo succoso frutto della natura un po' bruttino all'esterno ma molto molto buono all'interno saporoso proprio e mangiarlo con magari un formaggio di fossa veramente è un pranzo prelibato un evento che valorizza un prodotto di qualità con proprietà di rilievo anche scientifico afferma il giornale passiamo ad Urbino passiamo ad Urbino e vediamo che l'assessore Elisabetta Foschi annuncia aiuti alle famiglie per le bollette acqua e tari ovviamente sono le famiglie che hanno difficoltà economiche quelle che hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese l'assessore annuncia che come agevolazione ci sarà un bonus sul conto la decisione a seguito di una concertazione tra comune e sindacati comunque è stato pubblicato il bando appunto del comune per riconoscere agevolazioni tarifarie alle famiglie per i pagamenti delle bollette del servizio idrico e della tari quindi acqua e rifiuti le agevolazioni consistono in un bonus che verrà applicato da marche multiservizi sulle bollette del servizio idrico penalizzato a compensare un po' tutte quelle spese sostenute dalle famiglie nell'anno 2022 l'anno scorso e qualora si verificasse con i miei di spesa la somma a disposizione verrà utilizzata per il rimborso della tari prima si pensa appunto alle bollette dell'acqua poi si avanzano un po' di soldi si daranno anche contributi per quanto riguarda la tari questo ad Urbino giriamo la pagina e vediamo quello che è accaduto a Cagli e beh a Cagli abbiamo una notizia curiosa anche se drammatica per la diretta interessata e chi è la diretta interessata? ebbene la diretta interessata è una mucca è una mucca che è stata un po' stecchetto nei giorni scorsi sapete la siccità, il caldo, l'aridità e l'erba ovviamente si era ingiallita insomma non è che era molto appetibile poi è arrivata la pioggia la pioggia ha rinvigorito le zolle l'erba è cresciuta a bella verde e la mucca quando ha visto questo prato veramente appetitoso non ha resistito e ne ha mangiata tanta di erba sapete che anche le mucche possono fare indigestione? ebbene questa mucca ha fatto una tale indigestione che è crollata esanime per terra la vedete qui in questa fotografia mucca fa scorpacciata di erba esagera e stramazza al suolo l'animale davanti al prato verde e fresco non si è contenuto salvata in elicottero dai vigili del fuoco ovviamente è a corso il proprietario il quale ha dato l'allarme sono intervenuti i pompieri di Cagli insieme ai colleghi piloti di Arezzo hanno imbragato l'animale e con l'elicottero Drago 57 l'hanno riportata in volo nel suo allevamento dove qui è stata curata e quindi si riprenderà nei prossimi giorni insomma non è che poi è successa una cosa drammatica la mucca si riprenderà ed ora passiamo a Pesaro a Pesaro vediamo la bella iniziativa a favore dei bambini si tratta della mezzanotte bianca baby una grande jazz band, cori, ecologia e robot tante le manifestazioni per dedicare una serata di divertimento anche per i bambini ai quali viene concesso di fare qualche ora tarda in più la mezzanotte bianca arriva alla tredicesima edizione con eventi animazione nelle serate di domani e domenica dalle 3 alle 18 a mezzanotte scusate mi sono sbagliato le serate di domani, domenica 3 settembre dalle 18 a mezzanotte dalle 3 ovviamente non aveva ragione di essere turismo in chiaro scuro la bolletta pesa molto tanti hotel chiudono a breve il punto di Signorini proprietario dell'Imperial Sport sui mesi estivi e su cosa accadrà dopo il weekend del 10 di settembre forse qualcuno ha sbagliato la strategia di prezzi e si moltiplicano le proteste le prese di posizione degli operatori turistici degli albergatori in merito alla promozione turistica in merito anche all'esito si può protestare però si può esprimere la propria amarezza in merito all'esito di questa stagione che tra alti e bassi ci sono stati ci sono stati alcuni alcuni commenti favorevoli ma sono molte di più le espressioni deludenti per quanto riguarda l'esito di questa stagione che ha così che è iniziata male iniziata male giugno in mal tempo ve lo ricordate luglio qualcosa è salito salito bene agosto però insomma il consuntivo non è certo favorevole degrado e sporco in centro strade come lettiere rabbia dei commercianti tanti i ricordini di fido di fido di cani insomma quelle cosine che i cani lasciano e i padroni non prelevano una residente dice il regolamento comunale andrebbe rispettato la negoziante se non pulissimo noi tutti i giorni che situazione sarebbe e qui abbiamo mobili accatastati lungo la via degrado insomma si cerca di pulire i ricordini dei cani però insomma si vede qui come negli angoli delle strade tutta questa macchia scura e sono quelle appunto i ricordi dei cani che certo non danno una buona impressione ai turisti ma anche agli stessi residenti giriamo ancora la pagina e vediamo come il comune interpella gli influencer per promuovere la città di Pesaro in vista del prossimo anno quando il capoluogo sarà capitale nazionale della cultura arrivano gli influencer Pesaro semplice e bello noi la racconteremo così ebbene è una bella promozione perché gli influencer hanno molti follower e quindi raccontare a loro le bellezze di Cesare di Pesaro possono può così incentivare la promozione della città e quindi è una bella iniziativa vediamo anche la pagina che riguarda la sanità sanità ricci all'attacco l'unica cosa sicura trasferimenti e disagi festa dem Villa Fastigi il sindaco bordate su ospedale e altro ad Acquaroli visto che non riescono a rispettare i tempi che si sono dati finirà male questa è un po' la posizione del Partito Democratico ovviamente che contrasta tutte le decisioni del centro-destra assunte in regione e intanto però vediamo che nella azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino qualche progresso esiste perché in questi giorni si sta operando delle assunzioni di nuovi medici in diversi reparti ma noi lasciamo il resto del Carlino per prendere il Corriere Adriatico e vediamo l'apertura a Sufano a Montesquiantello solo rifiuti urbani e la presa di posizione dell'assessore regionale dell'ambiente Stefano Aguzzi che interviene sul tema che è stato posto all'evidenza dai tre ex amministratori nella loro conferenza stampa vi ricordate Baldarelli Carnaroli e Tiziano Busca che hanno così sollevato il tema del dopo riceci il riceci probabilmente sarà definitivamente abbandonata allora che cosa fare per le discariche vediamo che Urbino è stata chiusa Tavuglia e Lili per essere chiusa rimane Montesquiantello che dovrà essere a discarica di tutta la provincia e per gestirla i tre ex amministratori hanno proposto la realizzazione di un'associazione di scopo che possa appunto governare un po' tutta la situazione provinciale ma a questo proposito interviene Aguzzi che dice che se qualcuno pensa che a Montesquiantello possano essere depositati rifiuti speciali come doveva essere a Riceci si sbaglia di grosso perché la discarica di Montesquiantello è una discarica finalizzata soltanto ad ospitare rifiuti urbani e questo dovrà essere e appunto nel regolamento e nelle previsioni che sono state assunte dalla regione Marche Canti è un brindisi per l'ultimo saluto a Luca vediamo anche qui il San Paterniano grimita di amici e familiari dell'operaio tenore per l'ultimo saluto Luca Rulli l'operaio tenore di 59 anni riparata finalmente la briglia a Cerbara ossigeno per il canale Albani che ora non sarà più in secca non sarà nemmeno più scuro più melmoso ma potrà così usufruire di un'acqua scorrevole completato l'intervento di Aset l'assessore alle municipalizzate Mascarin dice invaso ora in ottime condizioni sembra passata veramente una vita e invece sono trascorsi appena sei anni non pochi da quando da quando il butolino killer sconvolse l'equilibrio già fragile del microhabitat del canale Albani le misure che sono state adottate a partire da quei giorni del luglio 2017 e anche il lato buono del cambiamento climatico hanno infatti dettato un'estate mai vista prima per il corso d'acqua che attraversa il cuore della città e ora finalmente il canale Albani potrà respirare con tutta la sua flora con tutta la sua fauna che tutti i giorni destra la curiosità dei passanti una denuncia da parte di Davide del Vecchio di Fratelli d'Italia in merito allo stato precario di una strada si tratta di via croce elevata che è al limite della praticabilità per quanto riguarda lo stato del fondo stradale pieno di buche costellato di dossi e di avallamenti impercorribile per diverse persone ecco appunto la denuncia e l'appello perché l'amministrazione comunale intervenga sulla pagina della Val Metauro abbiamo l'episodio della mucca di cui abbiamo parlato una task force anche dal punto di vista tecnico per salvarla è stata messa in moto e poi a fondo pagina abbiamo la festa della pera angelica la dolcezza veramente bello questo titolo la dolcezza e qualità a San Lorenzo in campo il consiglio comunale non tentenna no agli impianti fotovoltaici a terra votazione unanime intanto il sindaco Dell'Onti chiede agli altri sindaci di portare avanti una battaglia comune è una battaglia difficile questa da portare a termine in modo positivo perché la legge è tutta a favore degli impiantisti perché le necessità energetiche vengono considerate almeno preminenti a confronto di una situazione di impatto ambientale che viene trascurata perché poi vedere queste distese di pannelli nelle belle vallate delle marche è veramente triste e brutto vediamo anche la pagina di Senigallia fiammata fatale sul peschereccio muore uno dei marinai ustionati un altro dramma a Senigallia il decesso di Sayal Suyan dopo quattro giorni di agonia purtroppo il 35enne bengalese non gliel'ha fatta e poi voleva portare la famiglia in Italia invece il destino si è accanito contro questo emigrato è stato rimasto gravemente ustionato domenica mattina sul peschereggio giamaica ormeggiato al porto è morto purtroppo ieri mattina ai 9.40 nel centro grandi ustionati di Roma e secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco che lunedì avevano effettuato un nuovo sopralluogo il giovane marinaio avrebbe raggiunto la barca della famiglia Ripanti insieme a Renato Ripanti per effettuare dei lavori quando invece è scaturita la scintilla nel locale della ghiacciaia una fiammata che lo avrebbe avvolto raggiungendo marginalmente anche l'altro senigallese ma purtroppo per lui il dramma è stato fatale e diamo un'occhiata anche al calcio al calcio perché c'è una notizia che sovverte un po' quello che ho detto ieri quello che appariva ieri sulla pagina dei giornali ebbene ieri abbiamo annunciato le dimissioni di mister Scorsini il quale non gliela faceva più portare avanti questa squadra tra la mancanza di rinforzi il cambi di proprietà e via dicendo ebbene Scorsini torna il mio cuore è qui l'allenatore che si era dimesso ci ripensa dopo che il presidente ha dato l'ok per i contratti ai giocatori c'è anche una novità per quanto riguarda il girone l'inserimento di Riccione ebbene Scorsini quindi non ha revocato sostanzialmente le proprie dimissioni e continuerà ad allenare l'alma vediamo anche quello che accade in casa Vis la Vis presenta il main sponsor Tecnoplast Camillini chi fa sacrifici raccoglie frutti e abbiamo anche poco tempo per dare un'occhiata oggi al resto del Carlino lo facciamo precipitosamente per quanto riguarda le pagine di Pesaro torniamo un attimo a verificare questo articolo l'azienda sotto sfratto si muove il sindacato la cassa integrazione si può avere sono le reazioni dopo il caso sollevato appunto dal giornale in merito alla situazione di questa azienda per quanto riguarda la Confindustria dice noi siamo disponibili passotti della CGL se il titolare fa richiesta a metà dello stipendio è raggiungibile hanno detto appunto i sindacati e con questa notizia concludiamo la nostra rassegna stampa di questa mattina dandovi appuntamento per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 di questa sera con il Tg Occhio alla Notizia di Fano TV e per la rassegna stampa di domani alle ore 7 puntuali come sempre grazie per l'ascolto a risentirci